Dove siamo? Siamo a Londra, Shaftbury Avenue. Dobbiamo cambiarci. Avevo preparato qualcosa per le emergenze. Vedete qualcuno che potrebbe essere un mangiamorte? Come potrebbero sapere che siamo qui? Sono sempre riusciti a trovarci. E le notizie dei babbani sono piene di disastri. Ma noi conosciamo la causa. Mangiamorte! Ho preso il mantello dell'invisibilità. Ci può servire. Pensi che stiano tutti bene al matrimonio? C'era gran parte dell'ordine. Ci penseranno loro. Ha un'aria sospetta? Non lo so. Che ne dici del tizio con i giornali? Mi sembra un po' ambico. Stavo giusto leggendo sul giornale. Dobbiamo sistemare... Stavo giusto leggendo sul giornale. Dopo mi piacerebbe fare un po' di vero shopping. E ha superato la difesa. Avanti! Se ne prendete uno, ne avete un altro allo stesso prezzo. Non è un mangiamorte. È questo che pensi? Beh, neppure io sono... Queste jeans sono un po' stretti. Scusami, la prossima volta preparati da solo la tua roba. Non sapevo che saremmo partiti, ok? Non sono bravo in divinazione. Si tratta di pianificazione, non di divinazione. Noi dobbiamo pianificare tutto. Il giornalaio è un babbano. Già. La prudenza non è mai troppa. E quella donna laggiù? L'hai controllata? La prudenza non è mai trovata. Non si può capirlo, eh? Ottimo cibo, ottimo orello. Poco ed economico. Appena dietro l'angolo. Dopo mi piacerebbe fare un po' di vero shopping. Lui mi ha lasciato, se ne è andato, è andato via. E allora io gli ho detto... Perché, perché, perché? Non è una mangiamorte. Ottimo cibo, ottimo prezzo. Nuovo ristorante è appena aperto. Nuova gestione! Da quando sono iniziate quelle strane tempeste e solo... Pensi che Harry abbia addosso la traccia? Forse è per quello che i mangiamorte ci trovano. La traccia svanisce a 17 anni. Harry non è stato vicino a un mangiamorte che potesse imporgliela. Qualcosa tradisce la nostra posizione. La donna col cartello è una babbana. Sembra che li abbiamo seminati allora. Allora, dove andiamo adesso? Al paiolo magico? Troppo pericoloso. Se Voldemort controlla il ministero, nessuno dei vecchi posti è sicuro. Siamo qui e pensiamo alla prossima mossa. Che ne dici, Harry? Harry? Che ne dici! Che ne sono ancora! Perché ci trovano sempre? Dobbiamo materializzarci altrove. Sì, ma dove possiamo andare?